Un vento a trenta gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e i vecchi coi rosari, seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nishinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nievski, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte è un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte è un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro riscola del ilso del nostro 653 freni. Grazie a tutti.